Zio, io sfondo. E trovate un lavoro serio. Dacci un taglio, l'hai capito? Amaglia, l'hai capito? L'hai capito? Amaglia, l'hai capito? Dacci un taglio, l'hai capito? Amaglia, l'hai capito? L'hai capito? Amaglia, l'hai capito? Dacci un taglio. Pippo Maudo non mi chiamo. Lavoro anche a voi. Guarda chi incombe là, eh. Nicolini. È uno stronzo. Perfetto, Gianni è a posto così, direi di passare oltre. Buon Natale. Che gliel'abbiamo chiesto prima, ma voi ovviamente non avete sentito. È uno stronzo. Sì. Perfetto, Gianni è a posto così, direi di passare oltre. Eccolo qua. Capita anche questo a Natale. Dove sei?